Domani prende il via la non edizione dell'evento. Sì, la non edizione da domani 24 che sarà fino a domenica. Iniziamo venerdì alle 18.30 con Tire Molla, l'apertura delle stand gastronomici che come tutti gli anni abbiamo una specialità, la trippa e i fagioli che tutti gli anni finisce subito. Venerdì iniziamo l'esibizione e si inizia alle 20.30 con il Dinner Dance e alle 21.30 con Giorgio Four Dance. Per sabato invece? Per sabato iniziamo alle 19.30 con 5 minuti di umore, raccontaranno Barzellet e Fanesi e seguirà la serata danzante con l'orchestra Luca Fabri. Alla domenica iniziamo presto, alle 9.30 con la pedalata organizzata dalla Centina Rolese e poi a proseguire alle 19.30 ci saranno gli stand gastronomici e poi a seguire la serata musicale con i Diapason. Nel parco quest'anno c'è una novità, che cos'è e per quale motivo? La novità è che con il ricavato della festa del 2015 abbiamo acquistato, regalato al quartiere due tavoli e un giochino in un altro parco, un dondolo. Quest'anno invece avete già dei progetti con il ricavato dell'evento? Sicuramente anche quest'anno regaleremo qualcosa al parco di Centina Rola e vi aspettiamo venerdì sabato e domenica.